Aggettivi e pronomi possessivi Indefiniti, interrogativi, esclamativi Sono tutti dei pronomi che possono essere anche aggettivi Sapete distinguere quando è un pronome o è un aggettivo? Allora quando è aggettivo accompagna un nome Bravissimo Quando è un pronome lo sostituisce Esempio, la nostra vita è un possessivo aggettivo Mentre è migliore della tua, tua è pronome I possessivi esprimono una relazione di appartenenza Il possesso materiale di cose o di animali Rapporto di parentela Ad esempio mio padre, aggettivo possessivo Quello è il tuo, tuo è pronome possessivo Una connessione generica con qualcuno o qualcosa Il suo ultimo romanzo, la loro città Allora, attenzione I possessivi cambiano per la persona Prima, seconda, terza persona Per il numero singolare, plurale E anche per il genere maschile, femminile Suo, sua, eccetera Quindi i possessivi sono tipicamente Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro Vediamo se abbiamo una slide Ecco, questa è la relazione di appartenenza Abbiamo detto che il pronome possessivo Di terza persona singolare è suo E di terza persona plurale è loro Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro Attenzione però Proprio quello di terza persona È quello su cui soffermarsi maggiormente Perché ci sono altre forme Quindi c'è la forma suo, sua, suoi, sue Che si usano quando il possessore è uno solo E loro per quando i possessori sono più di uno D'accordo, però c'è anche la forma proprio La forma proprio ha un valore riflessivo Cioè è sempre riferito a soggetto Esempio Luca è arrivato col proprio fratello Non so, ecco Quindi in quel caso vedete che è proprio riferito a soggetto Se non fosse riferito a soggetto Non si potrebbe usare proprio Esempio Ho visto Luca che è arrivato con suo fratello In questo caso non posso usare proprio Perché fratello è di Luca Che è complemento oggetto E non è riferito al soggetto della frase In alternativa alle forme suo o loro Si può usare proprio per rimarcare Lo stretto rapporto tra il possessore e la cosa posseduta Per esempio Luca verrà con la propria auto È proprio la sua Si vuole rafforzare il fatto che è sua E non è di nessun altro Oppure Ho preparato queste slide Con le mie mani Che potrebbe diventare in terza persona Il professore ha preparato queste slide con le proprie mani Ecco Quindi voglio rimarcare il fatto Che proprio c'è un rapporto tra il possessore e la cosa posseduta È obbligatorio usare proprio al posto di suo e loro Nei costrutti impersonali Per evitare ambiguità Quindi costrutti impersonali Bisogna sapere accettare i propri difetti È impersonale Il soggetto non c'è Però in questo caso si usa proprio E poi Flavia ha proposto a Carla di trascorrere le vacanze estive Sulla propria barca Perché c'è l'ambiguità di sua Ecco noi per esempio Non abbiamo come in inglese un termine per indicare Suo di lei Suo di lui E quindi ci potrebbe essere ambiguità Se per esempio c'è un maschile e un femminile Non riusciremmo a capire se si riferisce all'uno o all'altro Quindi Flavio e Carla sono venute con la sua barca Sua di chi? Sua di lei o sua di lui? Se invece noi abbiamo propria Sappiamo assolutamente Che è riferito al soggetto Poi se il soggetto è indeterminato Si usa proprio Tutti badano al proprio interesse Si usa invece altrui invariabile Quando il possessore non è definito Ma è diverso dalla persona che parla o ascolta Devi rispettare le opinioni altrui Voglio difendere la mia libertà Ma senza danneggiare quella altrui Bene Allora I pronomi possessivi sono identici Nella forma agli aggettivi possessivi Ma sono sempre preceduti Dall'articolo O dalla preposizione articolata Sottintendono il nome della persona O della cosa che sostituiscono E ne indicano il possessore Bene Allora Possono avere questi possessivi Funzione attributiva di attributo E quindi praticamente Sono aggettivi In questo caso Ci possono essere anche Ci possono essere gli aggettivi In funzione predicativa Di nome del predicato Attenzione Se per esempio dico Questo libro è mio Questo libro è mio Mio non è pronome Ma è aggettivo Perché è un aggettivo In funzione di nome del predicato Quindi dovete distinguere Insomma Saper distinguere Quando è aggettivo O pronome Anche i miei Non capiscono Com'è importante per me Uscire Fino All'una di notte Ecco Ebbene In questo caso I miei Aggettivo Possessivo Sostantivato Sapete distinguere Quando è aggettivo Sostantivato E quando è pronome Pronome sostituisce un nome E quindi deve essere riferito Qualcosa Ad esempio A un nome Che è presente Nella prima parte Della frase Invece L'aggettivo In funzione sostantivata Quando diventa lui Proprio un nome Non è che Sostituisce Un altro nome Ma diventa lui Un nome Arrivano i nostri Per esempio Oppure Ha sempre La fortuna Dalla sua Ha sempre La fortuna Dalla sua parte Si può dire Ha sempre La fortuna Dalla sua Sua in questo caso È Aggettivo Sostantivato Gli aggettivi Possessivi Sono comunemente Usati come sostantivi Per indicare Al maschile singolare Il mio denaro Quindi Non è in grado Di salvaguardare Il suo Nel senso Il suo patrimonio Di salvaguardare Il suo denaro Maschile plurale Per Abbiamo già visto Per genitori E soldati Femminile singolare Per indicare L'opinione Sai difendere La tua Ora dimmi la tua Ecco Dimmi la tua Nel senso Dimmi la tua Opinione Oppure Salute Alla nostra Brindiamo Alla nostra Nel senso Alla nostra Salute In risposta Alla vostra Del 23 dicembre Del 2017 Allora Vostra In quel caso Significa lettera Ma è sempre Aggettivo Sostantivato Al femminile plurale Preceduto Dall'articolo Partitivo Delle mie Delle tue Indica Le birichinate Le sciocchezze E le spiritosaggini Ne hai combinato Un'altra Delle tue Delle tue Vuol dire Delle tue Sciocchezze Delle tue Marachelle Delle tue Stupidaggini Altri video didattici Su A tuttascuola.it Delle tue Delle tue Delle tue Delle tue Grazie.